e siamo tornati con grande orgoglio qui a Portoli Maria degli Aregai perché riconquista per l'ennesima volta la bandiera blu 2017. Un grande applauso perché è un grande traguardo, significa fare i compiti a casa in modo perfetto, è uno dei pochi approdi che ha il piacere e l'onore di avere la bandiera blu, dunque una grande tradizione. Io vado immediatamente dal presidente Beatrice Cozzi Parodi perché con soddisfazione ci esprime la sua soddisfazione. Sì sono molto soddisfatta, ringrazio tutti e ringrazio soprattutto i nostri collaboratori perché comunque curano questo porto come, io lo dico sempre, come fosse il salotto di casa e per noi è di grande importanza perché comunque è diventata una grande famiglia. Ecco una grande famiglia, un grande porto, una grande qualità. Sindaco, dottor Di Placido, buongiorno, torna alla bandiera blu, beh questo è un punto di riferimento per Santo Stefano il mare. Torna alla bandiera blu, non era facile, non era scontato e siamo veramente orgogliosi di poter dimostrare la continuità dell'amministrazione di Santo Stefano nel mantenere forte questa attenzione verso quello che ci ha saputo indicare nel tempo la prodo qui del porto Maria degli Arregai e soprattutto come si è stati capaci con gli operatori professionali, turistici, con gli stabilimenti balneari che ci hanno consentito con il loro apporto di poterci confermare per il quarto anno consecutivo in questo prestigioso riconoscimento. Ragazzi io farei un grande applauso, lo sapete a chi? Vedete dietro questa bandiera blu perché questo è il vassillo finale ma dietro è tutta la squadra che con un grande lavoro con a capo del presidente fa sì che tutto ciò torni con costanza qui a Maria degli Arregai a Santo Stefano il mare, dunque davvero un grande applauso a tutta la squadra, fatevelo ragazzi perché ve lo meritate, siete grandiosi. Complimenti, bandiera blu, porto di Maria degli Arregai. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie.